Stiamo affrontando in questi giorni vari problemi di attualità, uno soprattutto, lo dico velocemente perché poi non tolgo tempo all'ospite di questa mattina che tra poco vi presento. Il problema di questi giorni lo vedete nelle cronache, ma proprio quotidianamente di questa la cosa, perché può succedere ogni tanto, non deve succedere, ma può succedere che succedano queste cose, ma non quasi ogni giorno. Parlo dei ragazzini fra gli 11 e 14 anni che tolgono il bastone a una persona anziana su quale si appoggia per camminare, quindi cade per terra, parlo dei ragazzini che in qualche modo schiaffeggiano la loro maestra o l'insegnante. Per parlare o cercare comunque di individuare che cosa sta succedendo, questo fenomeno, da cosa nasce, eccetera, non è che vogliamo risolverlo, ma quantomeno ci proviamo, ho invitato questa mattina il dottor Stefano Pasqui, che ringrazio di essere venuto, grazie dottore, che è il responsabile, mi sembra, del presidente del SAIPS, vero? Il SAIPS è un acronimo che sta per Servizi, Aggiornamento e Interventi Psicosociali, con una sede in via San Martino 13 a Forlì, che è una trasversale, mi diceva, di via Piero Maloncelli, da non perdersi in Campania, quando c'è di San Martino, qui a Forlì diceva, sarà San Martino di Strada, San Martino di Mila Franca, eccetera, eccetera, e anche consigliere dell'ordine degli psicologi della regione Emilia Romagna. Andiamo subito al dunque, dottore, immagino che lei in qualche modo, anche a lei si chiederà quando legge i giornali e poi ne parlerà, eccetera, che cosa sta succedendo? Che cosa sta succedendo? Se riusciamo a capire che cosa sta succedendo? Poi ci sono paginate di giornali che cercano, psicoterapeuti che cercano di entrare nel problema, io invece ne voglio parlare con lei, mi dica. Beh, intanto la prima cosa da osservare è che non succede tutto dalla mattina alla sera, i giornali purtroppo danno l'impressione che fino all'altro ieri fosse tutto normale e tranquillo, poi improvvisamente esplodono queste violenze. La prima cosa è che l'essere umano è un po' come la pentola a pressione, se accendi il fuoco sotto, piano piano, progressivamente diventa sempre più incandescente, se non ha una valvola di sfogo poi la pentola a pressione esplode. Quindi intanto teniamo conto che non è che improvvisamente succedono queste cose, quindi vuol dire che anche quando decideremo di fare qualche cosa per ovviare a questi problemi il risultato non sarà immediato. Forse questo è già il primo problema che come società abbiamo di fronte. Ci siamo abituati a spingere un pulsante, ad avere subito un risultato, invece negli aspetti psicologici e sociali si vuole un po' di tempo, sia per fare il danno sia per rimediare il danno. Questo è un concetto importante questo che la gente deve capire. Bisogna cercare di capirlo questo. Che non è che si risolve dall'oggi al domani, si deve affrontare ma ha i suoi tempi. E non si è causato dall'oggi al domani, quindi vuol dire che. Vediamo che cos'è che ha causato questo fuoco sotto la pentola a pressione. Io proporrei un'analisi a tre livelli. Un livello molto macro, quindi di carattere psicosociale, un livello intermedio che legherei soprattutto alle tecnologie e a quello che permettono e non permettono di positivo le tecnologie. E poi un livello di vita quotidiana, perché poi dai e dai, facendo un'azione tutti i santi giorni, si ottiene un determinato risultato. Quindi è un po' questo il problema. Posso cominciare dal macro, dal livello più macro sociale. Abbiamo un grosso problema nei confronti delle giovani generazioni. Non c'è più quello che noi chiamiamo una promessa esistenziale. La promessa esistenziale vuol dire che nell'aria, mi passi il termine, nella nostra sociocultura di tutti i giorni circola un messaggio positivo che dice ai giovani e ai meno giovani, guardate, andiamo verso un futuro dove sono garantite alcune cose. Alcune cose ci interessano meno, anche se non è vero. Per esempio acqua, aria, cibo. Nel momento in cui noi diciamo queste cose sono a rischio per l'inquinamento, perché il clima sta cambiando, perché il cibo non c'è per tutti, eccetera, eccetera. Già creiamo uno stato di panico e di allerta. Però nel mio caso, nel caso del mondo psicologico, la promessa esistenziale dovrebbe garantire che andiamo verso un futuro fatto anche di relazioni sociali, di cui l'essere umano ha un disperato bisogno. Quando siamo bambini per diventare grandi abbiamo bisogno di rapportarci con dei genitori, poi con dei coetanei, se isoliamo un bambino non si crea nemmeno un'identità. Quindi la promessa sociale dovrebbe dire guardate che andiamo verso un futuro dove le relazioni sociali, sul lavoro, in famiglia, nella vita quotidiana, saranno consentite, saranno permesse, le potrete vivere con serenità. E il secondo punto, andiamo verso un futuro dove l'autorealizzazione, cioè la realizzazione di sé, sarà altrettanto garantita. Ovviamente la cosa più importante è il lavoro. Mentre io lavoro, è vero che sono seccato, è vero che mi dispiace alzarmi tutte le mattine, ma è anche vero che mi realizzo. Ho delle sfide, vinco queste sfide, mi viene detto che sono stato bravo nel vincere le sfide, insomma ci sono una serie di elementi. Ora che cosa succede in un sistema sociale quando questa promessa di un futuro che garantirà queste cose non c'è, non viene dichiarato, non è impalpabilmente presente, non lo si respira questo messaggio, succede che le nostre energie non si concentrano più a raggiungere questo futuro, perché questo futuro non è così bello come lo vorremmo, è anche messo maluccio. Allora su cosa ci concentriamo? Sulla nostra sopravvivenza. C'è una bella differenza. Sì, molta, perché la nostra sopravvivenza vuol dire che l'altro diventa omo, omi, mi lupo. È l'avversario che può portarmi via un pezzo di sopravvivenza. L'aria pulita non ci sarà per tutti, allora dobbiamo cercare di essere fra quelli che l'aria pulita ce l'avranno. L'acqua pulita o l'acqua potabile, ormai ci sono delle battaglie a livello mondiale come sappiamo per impossessarsi dell'acqua potabile. Se non c'è per tutti è chiaro che la mia sopravvivenza dice allora io farò di tutto per togliere la concorrenza e avere l'acqua potabile, ma lo stesso è per l'autorealizzazione e lo stesso è per i rapporti sociali. Allora che cosa succede? che se le energie di questi ragazzi non sono indirizzate verso un messaggio futuro per cui si devono impegnare, perché il futuro non vale la pena, questo a loro sembra, loro si concentrano sul fatto che allora bisogna che io salvaguardi me stesso. Prima viene la mia sopravvivenza e poi viene il resto. Andiamo alla preistoria. Questo elimina il concetto di altro, l'altro non diventa più una persona con cui interloquire, di cui avere rispetto, ecco l'anziano a cui posso togliere il bastone, non fosse altro per dimostrare a me stesso che io sono capace di passare sopra gli altri, quindi quando sarà il momento di salvaguardare la mia sopravvivenza, sarò capace di farlo. È quasi una prova che si fa con se stessi, soprattutto quando comincia l'adolescenza, so di non poter contare con i genitori, devo contare su di me, per diventare adulto in un mondo che non mi dà una promessa futura su alcune cose, io ho bisogno che sia capace di tutelare la mia sopravvivenza. Allora molte energie, e i giovani ne hanno tante di energia, molta di questa energia viene convogliata sul discorso, cerchiamo di pensare ai nostri interessi, adesso per banalizzare un po' il discorso. È così. Quindi bisognerebbe a livello sociale cominciare a ritornare alla proposta di un futuro che abbia un senso. Anche perché ogni giorno leggono i giovani, guardano sui giornali, guardate che voi non avrete la pensione, non ci sarà pensione per voi, guardate che non c'è lavoro, è un dramma quotidiano che loro vivono e qui da un certo punto l'istinto di sopravvivenza prende il sopravvento. Detto così sembra una cosa semplice, guarda ha scoperto l'acqua calda, no? È proprio così perché anche il comportamento poi in qualche modo dimostra quello che le ho detto. Le responsabilità, dottore? Cioè genitori, tecnologia, social, cosa c'è da dimostrare anche? C'è un po' di tutto, ovviamente. Scuola, eccetera. Le tecnologie sono quella cosa di cui ci stiamo accorgendo adesso perché ci sono piombate addosso con una velocità inaudita. L'essere umano, l'ho detto come primo concetto, non ha la stessa velocità con cui si stanno muovendo i progressi tecnologici. Per cui la tecnologia è andata molto avanti, noi a livello di maturazione siamo un po' più indietro. La tecnologia è una massa di strumenti che possono essere usati nel modo migliore e nel modo peggiore. Per essere usati al meglio ci vuole un'educazione a questa tecnologia. Io costruisco la vanga, se ti educo a un uso corretto della vanga, tu con la vanga puoi fare un progresso non indifferente in campagna, faccio per dire, rispetto a. Io invento l'automobile e grazie all'automobile se tu la usi correttamente potremmo fare progressi non indifferenti. Però ci vuole un'educazione a questa tecnologia. E noi da questo punto di vista siamo un po' fermi. Io parlavo con la polizia postale che ovviamente cerca di aiutare, di educare su queste cose. E lei dice che i giovani sono da un punto di vista tecnico preparatissimi. Tu gli dai l'oggetto in mano, lo smanettano e lo rigirano in centomila modi. Quasi invidia. Molta invidia. La nostra generazione che con un dito alla volta tenta disperatamente di. Però da un punto di vista funzionale, della funzionalità, dell'uso che si può fare di questi oggetti invece sono molto indietro. L'esempio classico che mi facevano è la convinzione che se io filmo qualcosa e lo metto su internet, su facebook, siccome lo mando solo ai miei cinque amici, sono convinto che la cosa resterà tra i cinque. E non hanno ancora capito che è come se tu mettessi i manifesti in piazza Saffi, per cui da quel momento quel documento è in possesso di chiunque, chiunque ci può arrivare. Ecco da questo punto di vista ci vorrebbe un pochino più di educazione. Le ultime ricerche che leggevo proprio l'altro ieri a proposito di giornali che nonostante la tecnologia restano comunque sempre una fonte di informazione. Assolutamente. Sono alcune ricerche fatte su, pensi, due milioni di contatti e si è visto che 135 mila per esempio contengono insulti e volgarità, che è la prima forma di aggressione. Noi siamo preoccupati perché vediamo l'aggressione fisica, tolgo il bastone o do la coltellata all'insegnante. Per noi psicologi la violenza comincia con una non gestione della propria aggressività. Aggressivi lo siamo tutti perché grazie a Dio se c'è un cane randaggio che ci molesta dobbiamo dimostrare al cane che potremmo essere più pericolosi di lui per fermarlo, altrimenti... però nel momento in cui non abbiamo conoscenza o non sappiamo come gestire questa aggressività è chiaro che la cosa diventa problematica. C'è un altro aspetto sull'aggressività, questo legato al discorso genitori, adulti, eccetera. Purtroppo la prima condizione che le dicevo, la mancanza di un futuro auspicabile verso cui andare, convince anche l'adulto che molte volte quello che serve è l'aggressività, oppure la furbizia, fra virgolette, cioè quell'essere furbo all'italiana per cui io riesco a nascondere a casa tua la mondezza senza pensare che anche dopo che ho inquinato il tuo cortile verrà inquinato anche il mio, non è che è molto lontano, però nel momento in cui è il tuo il cortile mi sembra... No, no, ma sono esempi calzanti. Ecco, molte volte anche l'adulto porta a casa degli esempi in cui l'aggressività è l'elemento fondamentale. Noi abbiamo un centro sempre lì presso il Saips che è per il trattamento degli uomini maltrattanti, quindi un centro che lavora con gli uomini che sono già stati accusati di violenza, eccetera. Le ricerche ci dicono che l'80% dei bambini che hanno visto o subito in prima persona delle violenze diventano dei violenti, perché ovviamente se io vedo l'adulto che per farsi strada usa la violenza che sia verbale o che passi addirittura poi alle botte o anche peggio, è chiaro che immagino che quello è l'esempio che io devo seguire. Lo fa lui per avere ragione o per farsi strada, quindi bisogna che impari a farlo anch'io. Nelle bande adolescenziali poi questa può diventare la regola per entrare a far parte della banda, insomma. Noi siamo una banda tosta, se vuoi entrare anche tu devi dimostrare di essere tosto, quindi fai un bel gesto di spacconeria, che una volta magari era limitato a una spacconeria di tipo più accettabile, adesso si manifesta con queste azioni. Ha visto che il preside che hanno gonfiato di botte non è stato il figlio gonfiarlo di botte, è stato il genitore che il giorno dopo va e gli dà un rosso di botte. Questo è un esempio per tutti. Crea degli alibi comunque perché il ragazzo poi faccia la stessa cosa, ce l'ha fatto mio padre perché non lo devo fare io. Assolutamente. Eh sì, questo è molto grave. Dicevo della tecnologia, social, internet, ha delle responsabilità. La scuola che tipo di responsabilità, gli insegnanti potrebbero acquisire questa funzione o la possono solo acquisire gli psicologi e gli psicoterapeuti? No. La possiamo acquisire tutti. Il problema è cominciare a crederci, cominciare a credere che il proprio comportamento sia qualche cosa che indirizzerà il comportamento di chi mi guarda. Noi possiamo ascrivere alla ricerca italiana una scoperta meravigliosa che sono i neuroni specchio. I neuroni specchio sono dei neuroni che si è scoperto, assimilano, leggono il comportamento che lei sta avendo e attivano dentro la mia mente gli stessi neuroni che dovrei utilizzare qualora lo facessi io. L'esempio classico che stiamo vivendo in positivo con le Olimpiadi della neve, molti atleti usano fra le varie tecniche sia il guardare le gare più ben riuscite, degli avversari più in forma, in modo da osservare come ci si comporta per fare bene quella pista. Oppure addirittura lavorano con un training autogeno tutto loro, chiudendo gli occhi, rilassandosi e rivedendo la gara perfetta che dovrebbero fare. Ovviamente in questo sono aiutati, ma queste due tecniche ci dicono che i nostri neuroni possono essere preparati a fare quell'azione che farai fra un mese quando sarai in gara. Questo vuol dire che se io assisto ad azioni di violenza io mi sto preparando a fare violenza. Se io assisto ad azioni di gentilezza io mi sto preparando a fare gentilezza. Allora quando lei si chiedeva ma tutti possiamo fare qualcosa? Sì, bisognerebbe che intanto questi concetti ci fossero sistematicamente portati da mani a sera in modo che noi capissimo qual è la nostra responsabilità nel fare un gesto. Cosa che manca al solito. Non siamo convinti, ci pare che non sia andato bene, siccome lo dicevano i nostri nonni a noi, però poi sembra che noi non siamo riusciti altrettanto bene, non crediamo che l'esempio come si diceva una volta sia da dare perché comunque verrà imitato. Certo, se tu sei solo a dare un esempio in una realtà dove l'esempio classico è io sono il solo che riciclo la plastica mentre tutti i miei vicini la buttano per strada non è facile che mio figlio prenda da me e non da tutti i vicini tenuto conto che si è anche visto che se tu insegni ai bambini delle elementari quanto è importante il riciclo il bimbo a casa dice col babbo e con la mamma scusa ma quello non va messo lì, va messo di là. Cioè il bambino se ha imparato una regola tende anche a farla presente al suo adulto di riferimento il quale in quel momento dovrebbe avere l'umiltà di dire ah scusa Giorgio hai ragione la plastica va messa qui e non va. Invece qualche volta l'adulto dice no ma è lo stesso, non ti preoccupare e allora il bambino dice boh. Un'altra ipotesi dottore di responsabilità, abbiamo rimasto ancora 5 minuti perché questa mi sembra una cosa che le debba chiedere, il poco tempo, la poca attenzione che i grandi, gli adulti, non voglio parlare neanche di genitori ma sono anche i genitori fra questi e gli stessi insegnanti che dedicano, cioè non ho tempo, non ho tempo per fermarmi a pensare che mio figlio invece si è fermato sulla sopravvivenza e che non c'è un domani e quindi è disturbato, è una delle responsabilità. Assolutamente sì, noi abbiamo vissuto un trentennio dove soprattutto nei luoghi di lavoro ci è stato detto quanto è importante la quantità e progressivamente la quantità ha schiacciato la qualità. Per cui anche nei rapporti umani non pensiamo più alla quantità ma alla quantità. se non posso stare 6 minuti con mio figlio come si deve allora pazienza. Intanto cominciamo a pensare che non è vero. 5 minuti passati bene con un'altra persona, con una relazione costruttiva e proficua sono una cosa meravigliosa e quindi andrebbe recuperata. Cominciano a esserci delle invenzioni. Pensi che anche sul mondo del lavoro gli specialisti a livello mondiale, visto che la crisi fra le varie cose è senz'altro servita anche a distrarci un po' da questa ubriacatura del numero insomma che dominava qualunque cosa. Amazon diciamo che è l'esempio. Tanto per intenderci e così via. Però gli esperti hanno scoperto, è la scoperta dell'acqua calda ancora una volta. Hanno verificato diciamo così quanto si diventa produttivi sul lavoro se la qualità dei rapporti umani e della motivazione che tu hai a lavorare migliorano. migliora la qualità del rapporto con i colleghi e con i miei superiori, migliora la mia motivazione perché credo in quello che debbo fare qualunque sia il mio mestiere. In tutti e due i casi la mia produttività, che poi vuol dire anche soldi alla fine, la produttività per un'azienda migliora consistentemente. Quindi ci sono già delle belle esperienze in cui si sta tornando alla qualità. Si è visto che uscire dalla crisi ormai non è questione di riusciremo a lavorare di più e più velocemente, ma riusciremo a lavorare meglio? Questo è il grosso interrogativo. Nelle relazioni umane è la stessa cosa. Però anche da questo punto di vista purtroppo ci vuole un'educazione alla tecnologia perché la tecnologia invece accentua il beneficio della velocità. Più sei veloce, più sei bravo. Un computer di tre anni fa, se lei lo accende, dice no, quanto ci mette? Io voglio un computer che lo apro e parte. Questo vuol dire che è meglio tutto quello che è veloce. Nei rapporti umani, per esempio, l'ascolto non è una questione di velocità. È una questione di dare un po' di tempo al proprio figlio. Per esempio, l'ascolto è una di quelle cose che io consiglierei sia ai genitori sia agli insegnanti. Non costa, basta fare un piccolo sforzo formativo per capire quanto è importante. Bisogna creare l'abitudine. I nostri neuroni vanno a sinapsi. Quindi se creo una sinapsi all'ascolto, grazie a Dio, dopo continuo questa sana abitudine, l'ascolto potrebbe essere già uno strumento molto interessante. Una delle strade importanti, sì. Prima di tutto ascoltare. Anche perché siamo quasi alla fine, anche perché molti giovani, molti, molti, moltissimi, io poi li frequento anche per il tipo di mestiere che faccio, sono convinti di non essere ascoltati. Devono gridare, come il bambino, il neonato e il piccolo che strilla quando ha fame o perché non sente l'attenzione attorno a sé. Dico delle cose ovvie, ma è proprio così. Molti giovani, l'ascolto secondo me è... Manca. Ecco, manca. Manca, sì. A cominciare dalla scuola, voglio dire, dai genitori, poco, bastano 5 minuti. Ha detto lei, ti metti un attimo lì con tuo figlio di 11 anni e dice, adesso ho 5 minuti di tempo, però mi devi raccontare cosa hai fatto oggi, la partita come è andata. È questa la strada. Sto cercando di banalizzare, insomma. Molti giorni i genitori li passano in macchina ad andare a prendere il figlio e ci sono altri 10 minuti di strada da fare per tornare a casa. Sono importantissimi. Bene, in quei 10 minuti dire cosa è successo a scuola, ma con la voglia di ascoltare cosa lui dice di aver vissuto, non di sgridarlo appena dice, la maestra ha detto che non ho fatto bene il compito, ah dovevi studiare di più. No, tazzetta, aspetta, cosa pensi che sia successo, fai delle domande, invitalo a raccontare il suo mondo. E falle convinto però, perché il giovane capta se ti fa la domanda, diciamo così, meccanicamente, che non gliene frega niente. O per sgridarti se rispondi male. Perfetto. Siamo arrivati in fondo. Dottorio, io dico una cosa. Siccome affrontiamo dei problemi di grande attualità, poi devo dire, li affronta con molta delicatezza e emergono cose molto interessanti. Io mi ripropongo, la richiamerò, più avanti parleremo di altri problemi, credo che sia importante, ma diamo un messaggio, poi vediamo quello che succede. Io la ringrazio ancora, ci risentiremo. Ringrazio il dottor Stefano Pasqui, psicologo, e ringrazio voi per l'attenzione. Abbiamo cercato di dare una mano, come poteva. Dico bene, dottor? Assolutamente sì. Grazie ancora. Grazie. Grazie.